Siamo tutti subito, sì, vai, Giovanni Sardelli. Buongiorno, che effetto le fa affrontare lo Spezia? Chiaramente poi la partita è importante, tre punti, quando inizia la partita immagino che poi passi un po' questo effetto, però è chiaro che c'è il passato davanti a lei e quanto c'è secondo lei ancora nell'Ospezia di italiano, cioè nel modo di giocare comunque offensivo, se lei rivede ancora qualcosa della traccia che ha lasciato lei? Normale, non è per me una partita come le altre. Per quei due anni straordinari, dove ho conosciuto un ambiente fantastico, persone altrettanto stupende. È normale che sono partite che sinceramente, adesso mi rendo conto che non sono belle da affrontare a livello emotivo, però si scende in campo per ottenere le vittorie. Per 95 minuti sarò avversario dello Spezia, però penso che personalmente pensare di essere un nemico di quella gente per me non passa nemmeno per l'anticamera del cervello. Quindi questo è quello che mi sento di dire perché due anni sono due anni ripetibili, fantastici e me li porto dentro. Quindi questo è il mio pensiero. Per quanto riguarda l'Ospezia, ognuno ha il proprio modo di interpretare il calcio, ognuno cerca di proporre le proprie idee. Io sinceramente non mi sono mai posto il problema o la domanda se l'Ospezia propone o non propone qualcosa del passato. Quindi sinceramente non mi sono mai posto questo pensiero qua. Ognuno propone quello che meglio crede e domani per noi è una partita che dobbiamo cercare subito di rimediare la sconfitta di Roma. Cercheremo di farlo proponendo sempre quello che abbiamo cercato di fare e che stiamo facendo per adesso. Francesca Bandinelli Sì, buongiorno mister, io ho due curiosità. La prima, dopo la partita contro la Lazio lei ha detto ho il fuoco dentro, Milenkovic ha parlato di rabbia. Il fuoco in questo momento è la molla della ripartenza della Fiorentina. Quanto allo Stadio Franchi mi aveva colpito nella sua presentazione quando raccontò venivo al Franchi a giocare e avevo tra virgolette un po' di timore. È vero che ci sono state due sconfitte contro due big ma io credo che questa Fiorentina possa davvero far tra virgolette paura nel suo stadio. Ne chiedo a lei un pensiero, grazie. Io ho il fuoco dentro perché sto iniziando a non accettare queste sconfitte per a parer mio e meritate e sinceramente è un qualcosa che mi brucia dentro ogni volta che sento il triplice fischio dell'arbitro perché cinque sconfitte su dieci partite, sinceramente alcune meritate, altre forse alle volte arrivano per cercare di farti migliorare, altre arrivano per capire bene il tuo percorso, però perdere sinceramente forse su questo aspetto non abbiamo mai discusso ma mi fa andare in bestia quindi la partita di mercoledì faccio fatica a digerirla perché se dobbiamo avere un certo tipo di mentalità e crescita e maturità se non le puoi vincere non le devi perdere perché sinceramente ok il risultato poi è quello che determina nel giudizio finale però la prestazione all'Olimpico contro una Lazio forte e con questa personalità non può finire con una sconfitta quindi questo mi fa veramente avvelenare. Poi, un'altra domanda scusa? Eh, sullo stadio che l'ho sempre detto, l'ho sempre detto, in passato quando arrivavo e lo ridico, arrivare a Firenze iniziava già da qualche giorno prima il pensiero per controbattere una squadra come la Fiorentina per Blasone, per qualità dei giocatori, per la spinta dello stadio e io vorrei che tutti gli avversari pensassero quello perché penso sì, una volta sono venuto a vincere ma una su tante non fa percentuale quindi non la conto neanche quindi mi auguro che da qui alla fine in casa la Fiorentina si possa togliere delle belle soddisfazioni cercare di essere una squadra che in casa deve per forza di cose imporre la propria identità, giocare con personalità come abbiamo fatto a Roma e facendo quello, se la base è quella, poi cercando di migliorare tanti aspetti penso che si sia un buon punto. Brunella Ciullini Sì, buongiorno a tutti, buongiorno Vincenzo Buongiorno Buongiorno, una cosa veloce, la preoccupa di più la mancanza ancora di continuità della sua squadra o questa fatica ad arrivare al gol perché nonostante comunque il grande possesso di palla non riuscite negli ultimi 20 metri a concretizzare ecco, volevo sapere che poi alla fine tutto ricade su Blaovic, bene o male, nel bene e nel male, grazie Ma credo che uno degli obiettivi che avevamo era quello di cercare di avere il più possibile la palla a noi di gestirla per più tempo durante le gare e penso che un dato importante è quello che in questo momento siamo il secondo possesso palla in Italia e penso che dei 15 punti che abbiamo questo aspetto abbia dato molto ma molto per raggiungere la classifica che abbiamo penso che sia un aspetto che va curato, lo possiamo ancora migliorare e insieme a quello però devi aggiungere concretezza in avanti perché per me non esiste solo dire beh la Fiorentina non ha mai tirato in porta la Fiorentina quando la palla attraversa per 5-6 volte l'area di porta quando arrivi per 15 volte sullo spigolo dell'area grande per me già inizia ad essere un pericolo quando lo fanno gli avversari figuriamoci se non lo penso quando siamo bravi a farlo noi quindi lì dobbiamo avere più intraprendenza più voglia di incidere, l'ho sempre detto perché è un peccato, è un peccato non sfruttare tutte quelle situazioni che si vengono a creare ed è un peccato ripeto in anellare sconfitte, in meritate non far punti perché i punti contano, i punti pesano e da questo punto di vista la Fiorentina deve crescere ci mancherebbe, è inutile negarlo abbiamo perso due trasferte 1-0 penso che con un po' più di furore e un po' più di convinzione potevano essere risultati differenti e allora questo è un aspetto che dobbiamo migliorare è innegabile perché penso che qualche gol in più lo potevamo fare penso che la responsabilità non sia solo di Vlaovic ripeto, abbiamo tre attaccanti abbiamo due centrocampisti che devono dare una mano in fase offensiva spesso arriviamo anche con l'aiuto dei terzini quindi la responsabilità non ricade sul terminale offensivo non è facile giocare contro, riferendoci all'ultima gara contro due giocatori forti come Ramos e Acerbi quindi le partite vanno analizzate per bene potevamo far male, non ci siamo riusciti ed è lì dove ci stiamo concentrando per cercare di migliorare Andrea Giannattasio sì mister, buongiorno, bentrovato le chiedo qualcosa su Gaetano Castrovic che lei ha ritrovato nelle ultime gare lo abbiamo visto a Roma per la prima volta titolare dopo quel brutto infortunio le chiedo che cosa può dare alla manovra della sua squadra questo giocatore e come l'ha ritrovato e se è lecito aspettarsi che abbia continuità magari rivedendolo domani ancora una volta titolare grazie Gaetano per quanto mi riguarda è un giocatore che ha delle caratteristiche diverse rispetto a tutti gli altri compagni di reparto ha questa conduzione palla al piede ha questo cambio di passo ha anche presenza in aria perché arriva facilmente a riempire l'aria però anche lui deve pretendere di più da se stesso anche lui quando ha la palla nei piedi deve cercare di essere più incisivo più efficace gliel'ho detto uno non si può accontentare di una prestazione dove basta e si accontenta solamente del fatto di aver messo più minutaggio sulle gambe di far crescere la condizione ma ognuno di noi deve dare qualcosa in più ognuno di noi deve mettere più qualità perché chi ha nelle corde questo lo deve fare deve pretendere di più deve essere più esigente con se stesso è un giocatore come lui in questa Fiorentina lo deve pretendere quindi è un giocatore che va recuperato soprattutto dal punto di vista fisico perché l'infortunio è stato brutto però siamo qui a dargli una mano mi abbiamo concesso 60 minuti penso che inizia a livello fisico a stare meglio adesso però deve anche lui iniziare ad incidere perché penso che lo ha nelle corde è un giocatore importante è un campione d'Europa quindi personalmente dico questo perché lo vorrei sempre decisivo sempre determinante in tutto quello che fa perché lo può fare Matteo Dovellini Sì, buongiorno mister io invece volevo tornare sull'aspetto di quanto crea questa Fiorentina e quanto poi non riesce in questo momento perché poi immagino in questo momento a concretizzare o comunque a incidere là davanti mi può spiegare meglio se è un problema anche di raccordo come lei diceva prima per esempio con le catene e con i centrocampisti che devono inserirsi meglio occupare magari maggiormente fare densità nella metà campo avversaria perché è un aspetto questo molto importante perché chiaramente sono dei centrocampisti di Buonaventura che magari lo fanno con maggior leggerezza anche con maggiore fantasia ed altri che invece hanno caratteristiche evidentemente differenti quindi ecco anche l'utilizzo di un calciatore come Buonaventura mi sembra in questo momento sia indispensabile infatti Buonaventura ha sempre giocato ho cercato di di dargli un un tempo di riposo perché ha sempre spinto giustamente tre partite in una settimana è giusto anche cercare qualche rotazione cercare qualche soluzione diversa ed è infatti l'unico centrocampista che è andato in gol è un giocatore che in quelle zone è uno che sa sa starci perché arriva a qualità e all'ultimo passaggio e lo ha dimostrato quindi ho sempre detto che per noi è un giocatore importante e sono convinto che anche lui anche lui deve pretendere di più da se stesso perché in queste dieci partite secondo me poteva fare qualche gol in più poteva determinare di più e dobbiamo cercare soprattutto con i giocatori di qualità come è lui di aumentare le percentuali e questo lo dobbiamo fare lo pretendo da parte di giocatori importanti come lui però insieme a lui anche gli altri devono iniziare ad arrivare sotto porta a capire bene i tempi di inserimento perché ripeto in queste partite sono arrivati tantissimi traversoni tantissimi cross e se si ha la fame e la voglia di buttarla dentro penso che la Fiorentina poteva avere qualche gol in più sulla casella gol realizzati quindi però è un percorso che sono convinto pian pianino riusciremo a migliorare a crescere ci lavoriamo ogni giorno stiamo crescendo dal punto di vista difensivo sono convinto che non è un caso ma perché iniziamo a lavorare bene su quello che può essere un lavoro sulle preventive un lavoro su quando non abbiamo la palla percepire il pericolo quindi come stiamo migliorando in quello dobbiamo cercare di migliorare negli ultimi 18-20 metri Puzzo Mazzoni Sì mister buongiorno la mia domanda è un pochino più generale sul calendario perché ci sono dei suoi colleghi tipo Sarri che queste 5 partite in 20 giorni lo ritengono qualcosa di allucinante che i giocatori si allenano più con le nazionali che con il club e c'è chi invece tipo Pioli ha detto come in realtà per un allenatore tutte queste gare ravvicinate siano anche un qualcosa di stimolante ecco per lei queste 5 gare in 20 giorni con una nuova sosta da settembre a novembre che tipo di calendario è? Grazie No io l'unica difficoltà che trovo in queste partite ravvicinate è il fatto che non si può preparare una partita per bene nel minimo dettaglio cercando di lavorare con costanza su entrambi le fasi quindi in un allenamento ti devi preparare praticamente a far tutto palle inattive strategia approfondire le qualità dell'avversario quello secondo me è la difficoltà più grande poi gestire le energie le forze chi non riesce a recuperare per bene chi qualche problema fisico chiaramente dopo gare così ravvicinate può venire fuori per me queste sono le difficoltà ormai è un'abitudine giocare partite così ravvicinate partite anche difficili l'unica cosa che mi è dispiaciuta è che tutte le volte che venivamo da una vittoria due giorni dopo dovevamo andare in campo quindi non ci siamo mai riusciti a gioire per una settimana intera almeno nelle ultime giornate al contrario delle sconfitte che si hanno dovute assorbire per sette giorni consecutivi quindi questo è quello che penso delle gare ravvicinate ne sono convinto perché tutte le volte che si prepara una gara con tanti giorni e tanti allenamenti personalmente mi sento più protetto farlo in un allenamento non è semplice Luca Cellini Luca ci sei? copriamo dopo Federico Targetti Sì mister buongiorno partita speciale per lei immagino partita speciale anche per Riccardo Saponara ne approfitto per chiedere innanzitutto come sta il giocatore visto che ha avuto come ci ha spiegato un problemino prima della Lazio e poi come sta vivendo l'avvicinamento alla partita da ex grazie Ricci ha già stretto i denti per la partita contro il Cagliari dove è stato protagonista di una partita strepitosa e dopo la gara ha accusato ancora un po' di dolore al ginocchio che non gli ha permesso di poter essere della gara sin dall'inizio quindi poi ho deciso anche di rischiarlo per quei 20 minuti finali però non è al 100% adesso negli ultimi giorni sembra che stia migliorando e mi auguro che per domani arrivi in una condizione che gli permetta di esprimersi come ha fatto con il Cagliari perché anche lui è un calciatore che può dare tanto che può determinare in maniera decisiva come avete visto col Cagliari e soprattutto la partita col Cagliari ci tengo a precisare che come ho sempre detto come si esprimono lì davanti gli attaccanti poi determina tutta la prestazione della squadra i tre davanti hanno fatto una gara strepitosa hanno tenuto palla ci hanno fatto salire hanno creato superiorità hanno il secondo gol praticamente è stato confezionato dai tre davanti Dusan che manda in verticale Ricchi Ricchi che è stato fantastico per l'assistenza a Nico quindi quando lì davanti si gioca con quella qualità e quella grande determinazione poi il resto della squadra ne trae vantaggio allora mi auguro che anche per domani avvenga questo perché sono convinto di quello che dico ne ero convinto quando facevo il calciatore quando avevo i miei compagni lì davanti che iniziavano a far giocare bene alla squadra lo pretendo e ne sono convinto ancora di più adesso che faccio l'allenatore quindi lì davanti dobbiamo essere come siamo stati col Cagliari e Ricchi Saponara può essere quando sta bene un giocatore importante per questa Fiorentina Matteo Magrini Sì buongiorno mister buongiorno io ho l'impressione magari sbagliate lo chiedo a lei che questa Fiorentina per tenere certi ritmi questa classifica anche così importante debba costantemente spingere il motore a mille per mille al massimo non si possa permettere di alzare male il piede dell'acceleratore le chiedo se c'è il rischio ad un certo punto perché questo può accadere quando si spinge il motore sempre a massimo di andare tra virgolette fuori i citi e quindi poi di incappare in delle difficoltà grazie penso anch'io questo che la Fiorentina se vuole stare a competere con quelle otto che ha davanti deve cercare di andare a mille all'ora sempre perché appena abbassa la guardia la concentrazione non entra in campo con quel furore e quella qualità che ha fatto vedere in queste prime dieci partite chiaramente gli altri forse hanno qualcosina in più penso che alla fine tutto torna in questo momento ci meritiamo di stare in quella classifica tutti vorremmo stare in alto tutti vorremmo vincere ogni partita tutti vorremmo finire come quella con il Cagliari che a 20 minuti dal fischio praticamente la partita era già chiusa questo forse avverrà un giorno forse sono un sognatore però ci si allena per raggiungere quel tipo di prestazioni però lo penso anch'io la Fiorentina deve andare anche fuori giri per cercare di stare al massimo per competere ad alti livelli almeno per adesso e quando non lo fa sono convinto che perdiamo qualcosa vedi Venezia che bastava poco per cercare di portare a casa risultati però questo può anche essere uno stimolo per cercare di lavorare sempre forte durante la settimana di non sottovalutare nulla di percepire costantemente il pericolo come dico io perché ogni partita è difficile l'avevo detto in presentazione di Venezia che era una squadra in crescita una squadra che poteva metterci in difficoltà poi purtroppo è arrivata la sconfitta però questa Fiorentina non deve sottovalutare niente e lo dico adesso soprattutto questo Spezia perché è uno Spezia che gioca bene compatto e tutti sottopalla quando devono difendere attaccano con tanti uomini quindi se pensiamo che domani sia una partita semplice dimentichiamocelo e domani dobbiamo affrontarla con lo spirito e l'attenzione che abbiamo fatto soprattutto nell'ultima gara in casa proviamo a recuperare Cellini vediamo se riusciamo Luca ci sono tutto a posto mister buongiorno ben ritrovato mi ha fregato perché mi ha risposto la domanda sullo set allora le chiedo una curiosità visto che nell'ultima giornata nella penultima giornata quattro l'attenazione sono espulsi si parla di vara chiamata c'è un consiglio che si sente di dare per migliorare i vostri rapporti con la classe arbitraria grazie ma allora state parlando con un allenatore che sono quattro anni che è nel professionismo per quanto riguarda questa questa mansione non sono mai stato espulso mai in quattro anni quindi il rapporto mio con il quarto uomo con l'arbitro è un rapporto di grande rispetto cercherò sempre di essere questo perché per me abbandonare la squadra sia partita in corso che nella gara successiva per me è qualcosa che non potrei sopportare quindi sono quattro anni che non ho mai una discussione con gli arbitri sì ogni tanto vengono lì ma parliamo di altro parliamo di situazioni diverse da quelle di campo quindi sinceramente penso più alla squadra penso più a incitare a sostenere i miei calciatori degli arbitri sinceramente c'ho rispetto come ho sempre detto nell'arco di un campionato si possono avere situazioni a favore poi qualche situazione dove non sei d'accordo però sinceramente il mio rapporto con gli arbitri è un rapporto che da quattro anni non vengo mai cacciato dal campo quindi è questo che mi sento di dire poi ognuno si comporta come vuole ognuno decide di avere atteggiamenti giusti o sbagliati ma personalmente con gli arbitri c'è questo c'è questo rapporto lo porterò avanti penso sempre poi può capitare di tutto ti danno quattro o cinque rigori contro inesistenti anch'io potrei anche sbloccare però in questo momento sono sono sereno grazie a tutti grazie a tutti